e oggi siamo creati un nuovo video oggi ragazzi siamo su fifa non fifa vabbè non fifa 17 ma un altro fifa oggi ragazzi sono usciti pacchetti per i giocatori rosa cioè musa e il cicerito innanzi soprattutto il cicerito innanzi record breaker sarà mio oggi voglio il cicerito innanzi mi raccomando ragazzi raggiungiamo 5 mi piace per un prossimo video su fifa mi raccomando ragazzi raggiungiamo tantissimi mi piace che oggi voglio trovare cicerito innanzi record breaker oppure ronando record breaker va bene ragazzi ora andiamo con il draft vediamo uscendo una bella spagnola con il centrocampo spagnolo pure tanto salutiamo a bomber 360 che sta qui grande bomber allora ragazzi stasera mi sembra che uno alle 7 e me alle 8 alle 7 alle 7 ci sarà la challenge su canali bomber 360 con tanti tantissimi youtuber gass doni 07 donio 07 tanti altri no e poi basta poi ci stanno noi due ne siamo 5 noi a fare la no look challenge e ogni settimana c'è una challenge al giorno eh certo poi mi sembra che domani ci sarà il mio sul mio canale però raga sto facendo solamente non so perché mi sta uscendo una spagnola buggata oddio wow questa è spagnolo non mi vedete perché ah eccola qui alleluia iscrivetevi ragazzi iscrivetevi al canale di black assassin mattia 08 oddio ah no ma sta sta bello che esce ronald rago break ronald rago break madonna io lo amo questo aspetta 100 raga 188 voglio provare 190 raga se ci riusciamo ragazzi se facciamo 190 voi a meno 20 mi piace lo so che ci arriviamo perché non ci stiamo mai arrivando 19 19 19 20 19 20 20 20 20 20 21 20 21 23 24 24 24 25 pozzù è l'opozza ma no vieni a chi è questo il barotto il gallo io pure voglio essere un gallo sai ho sempre desiderato da piccolo di essere un gallo mascherano che rischia aspetta 188 non l'abbiamo fatto mi sembra che l'abbiamo fatto 89 sì l'abbiamo fatto 89 non esce proprio un cacchio e quindi non ci posso fare niente ragazzi ci vediamo dopo quando apriamo i pacchetti ok ragazzi abbiamo vinto la finale pure purtroppo sono stati sempre espulsi tre giocatori semifinale in ottavi di finale in quarti di finale e in semifinale va bene comunque ci mettiamo dei bei pacchettoni dai apriamo il primo pacchetto dai walk out ok ma belloni già cominciamo bene cominciano come un bel niffino oggi questo è un bel niffino ok ragazzi dai andiamo 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 a ok è uscito questo scemo e stupido di rubani nooo devi uscire record breaker ci ci ha rito ma questo non può uscire dai ci ha rito però io non voglio prendere i miei merda qua che mi prendo io vorrei fare l'attacco dei sogni vorrei prendere insieme no io scarto ronaldo voglio scartare ronaldo voglio prendermi voglio prendermi lo scugnizzo e poi l'attacco dei sogni no prendo ronaldo no prendo insieme prendo insieme hai preso mamma non hai preso né ronaldo né insieme che cosa mamma mi che scemo chiamatemi aggiungiamo 5 mi piace adesso ho scartato un ronaldo e un if dai devi uscire ronaldo devi riuscire pure tu lorè lorè devi riuscire pure tu ora mi raccomando lorè Odin Rugani Rugani no bè che squadra di cacchio uais Rugani ritorno or non è io ragazzi ci sta scendo la scuola non so come la scuola non capisco come ah raga è uscito Neymar non fa niente se non è uscito Renato ma è uscito Neymar comunque la stessa cosa è proprio un portico per di cazzo raga devo prendere il fossocio perché è 89 poi ho pure interesse e vai stavolta ve l'ho detto che usciva Ronaldo Recon Breaker tra una merce ragazzi dai ci vediamo dopo bella ragazzi guardate che ho fatto forse qua usciranno campioni voglio 20 mi piace l'ho detto perché ve l'ho promesso se facciamo 190 dobbiamo raggiungere 20 mi piace dai 20 mi piace dai 38 iscritti gli stiamo è vero? 38 iscritti 38 iscritti no 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 100 9 10 10 10 forse perché Ronaldo non l'ho messo 10 oddio Togs Talisca già ce l'avevo ah no 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 ah perché io c'ho quello da Iro allora ragazzi il video che ci c'è qui mi raccomando scrivo il cane per la cassa se mi ha te 08 Niccolò scherzavo papadia poi Donato Rega Donato 07 Rega Tonio 07 è questo che si chiama iscrivetevi assolutamente perché lui farà le challenge quindi stasera mi raccomando passate al canale bomba 360 che faremo il video poi domani ritorna sul mio canale noi ci vediamo in un prossimo video bella campione 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 bella campione